Ben trovati, sono il dottor Michele Labianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. I dati riferiti al 22 marzo, già diffusi dal bollettino della Regione Basilicata, indicano che dai laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche convenzionate della Regione è stato processato un numero di 1.386 tamponi per un totale complessivo di 271.072 tamponi molecolari effettuati dall'inizio dell'epidemia, ai quali si aggiunge un totale di 11.915 test antigenici rapidi effettuati alla data di rilevazione. Per quanto riguarda i test molecolari, le positività totali riscontrate sono state 123 e di queste 116 si riferiscono a soggetti residenti in Regione, 5 a soggetti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata, 2 a soggetti non residenti in isolamento nelle rispettive Regioni. Il totale dei positivi nella giornata presa in esame vede una sostanziale prevalenza dei soggetti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile, con un'età media di 41 anni per i soggetti di sesso femminile e di 44 per i soggetti di sesso maschile. Tra i casi positivi della giornata esaminata, al 16 la percentuale dei soggetti nella fascia d'età 0-20 anni, sempre più rappresentata al 60 per cento la fascia d'età tra i 21 e 64 anni, aumenta al 24 per cento l'interessamento degli ultra 65 anni. I principali indicatori per Covid-19 della Regione danno la seguente situazione. La percentuale di incremento dei nuovi casi nell'ultima settimana nella Regione si mantiene a 4,9 per cento, seppur in calo rispetto al dato delle giornate precedenti, ma superiore al dato nazionale del 4,7. La proporzione test positivi sul numero totale dei test effettuati, che testimonia la circolazione del virus sul territorio regionale, è pari all'8,7%. Il numero dei casi nella Regione tende ad aumentare, così come aumenta l'incidenza, cioè le nuove positività per Covid-19 per 100.000 abitanti, riferita alle ultime due settimane, che rimane alta, 320 casi positivi su 100.000 abitanti, comunque inferiore rispetto alla media nazionale di 520 casi positivi su 100.000 abitanti. L'indice di contagio RT, riferito all'ultima settimana, è pari a 1,25, in lieve aumento rispetto al dato della settimana precedente, è superiore al dato medio nazionale di 1,16. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella Regione, 70 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 14 interessano il capoluogo. I rimanenti 56 sono distribuiti in 24 comuni della provincia. 46 positività sono attribuite alla provincia di Matera e di queste 14 interessano la città di Matera. Le rimanenti 32 sono distribuite in 12 comuni della provincia. Anche per il bollettino odierno, le positività sono dovute alla presenza di focolai sul territorio, segno del predominante coinvolgimento della popolazione generale. Il costante monitoraggio delle strutture da parte delle aziende sanitarie territorialmente competenti non segnala casi di positività per Covid-19 in nuove residenze sanitarie per anziani né nuovi focolai ospedalieri. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere lucane Covid dedicate nella giornata esaminata rimane fissato a 172 pazienti ricoverati. Il numero complessivo dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva è di 13, 5 dei quali ricoverati presso l'ospedale San Carlo di Potenza e 8 presso l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Comunque nella regione il tasso d'occupazione dei posti letto, specie di quelli in terapia intensiva, rimane contenuto e al di sotto dei livelli di guardia. I guariti residenti nella giornata esaminata sono 74, portando il numero complessivo dei guariti residenti a 13.348 soggetti. I positivi totali residenti sono 4.280, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 4.108. Prosegue la revisione degli ultimi dati menzionati da parte dei competenti servizi ospedalieri e territoriali. Nella giornata esaminata è stato registrato un decesso correlato a Covid-19 in un soggetto di 84 anni che porta il totale dei deceduti residenti alla data odierna 407 soggetti complessivamente. Da verifiche effettuata al 21 marzo in ciascuno dei 131 comuni della regione si riducono a 90 quelli sede di focolaio attivo per Covid-19, con un numero complessivo di 3.099 soggetti positivi attivi. Di questi focolai 68 sono situati nella provincia di Potenza e 22 in quella di Matera. In base a quanto su descritto, la regione Basilicata è indicata come regione a rischio moderato per Covid-19 sia per positività dei tamponi eseguiti che per ricoveri ospedalieri. Alla luce della conferma della circolazione di varianti virali a maggiore trasmissibilità, non è indicato da parte della popolazione, compresi i soggetti vaccinati, anche con un ciclo vaccinale completo, di modificare le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull'uso di mascherine e sull'igiene delle mani. Inoltre, per i lavoratori, compresi gli operatori sanitari, è prescritto che debbano continuare ad utilizzare rigorosamente tutte le precauzioni previste secondo la valutazione del rischio lavorativo e ciò indipendentemente dallo stato vaccinale e che continuino ad aderire ad ulteriori programmi di screening dell'infezione. Allo stato attuale, e in attesa che la campagna di vaccinazione anti-Covid raggiunga sufficienti coperture vaccinali ed idonei livelli di protezione della popolazione lucana, è fondamentale continuare a mantenere un'applicazione attenta e rigorosa delle misure, quali la riduzione delle interazioni interpersonali e della mobilità, per cercare di arginare la tendenza all'aumento incontrollato dei casi positivi e lo spostamento in avanti dell'età di manifestazione dell'infezione e il conseguente sovraccarico dei servizi sanitari. Ringraziandovi per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.